Andiamo al segno dei gemelli, è una luna certamente entusiasmante, quella che transita nel segno dell'Ariete è una luna che vi permetterà di vivere un sabato molto intenso, soprattutto un sabato sera ricco di avvenimenti, di incontri e anche, perché no, di amore, perché questa luna in Ariete va certamente ad esaltare anche questa venere nel segno della bilancia che è pronta a portare tante novità, soprattutto nella vita dei single ma anche nelle coppie già affermate, nelle coppie di vecchia data, si respira una trasfera completamente nuova grazie a questa venere, a questo giove in bilancia voi siete tornati ad essere le persone simpatiche, estroverse, divertenti che siete perché è insito proprio nella vostra natura andiamo al segno del cancro